Vi aspettiamo tutti, dovenio a quattro perché serve collaborare soprattutto per dare l'opportunità e a chi è che non ha possibilità, anche per chi fa bene alla salute o alla passeggiata, ci unisce un po' tutti con la speranza di aiutare chi è che ne ha bisogno. Noi siamo un gruppo di multi-runner che corrono tutte le domeniche, tutti i giorni. Farlo fa bene alla salute, questa è la cosa che bisogna far capire. Fa benissimo la salute, io penso che con la mia non più giornalità sono una bella dimostrazione. Grazie.